Ascolto un saluto da Piero Gipardo e Lelia Dani, gara di cui si è affarato molto nei giorni scorsi, vedremo se si confermerà l'altezza. Di fronte ci sono Kickers e Big Trouble. Il calcio è la nostra passione, è la nostra ragione di vita, Piero. Ma cosa vogliamo di più? Cosa chiedere di meglio che poter assistere a un match dal vivo? Dimelo tu, io spero solo che lo spettacolo sia all'altezza delle aspettative. Kickers che scendono in campo così. In difesa si affidano la coppia formata da Carlos Alberto con Cap de Vila sugli esterni. Gersigno insieme a Di Maria lungo l'auto di centrocampo. E in avanti spazio al talento, ai gol di Mbappé. Attenzione, tutto solo. Grealish, 1-0. Non ha sbagliato, cambia subito la storia. Ha battuto il portiere dopo aver saltato il proprio marcatore con una facilità quasi irrisoria. Un gesto tecnico che merita davvero di essere apprezzato meglio con questo.